Si tratta di un incontro di formazione e informazione sul vaccino Covid. È un'esigenza manifestata dai rappresentanti degli studenti, dai rappresentanti della consulta ed io con grande piacere mi sono proposta come tramite tra l'Asp e il Dipartimento di Prevenzione che con grande spirito di collaborazione ha accolto questo invito e nonostante il periodo di grande emergenza e di sovraccarico di lavoro è qui presente per destinare la formazione e l'informazione agli studenti dell'ITGT di Vibo Valencia. È un'esigenza dei ragazzi, è un momento nel quale bisogna scegliere in modo consapevole se vaccinarsi, quando vaccinarsi e quindi tante domande, tanti dubbi sciolti e un atteggiamento proattivo, propositivo da parte degli alunni. È stata una giornata molto interessante, veramente una bellissima giornata perché si capisce che i ragazzi hanno tante domande inespresse, hanno tante paure purtroppo perché sono venute fuori notizie a volte discordanti. Credo che sia andata molto bene, noi abbiamo spiegato qual è l'importanza del vaccino ma soprattutto come è costituito il vaccino, quali sono le conseguenze, abbiamo parlato di quello che può essere fare il vaccino e avere dopo dei problemi, per cui io credo che i ragazzi abbiano compreso il senso e l'importanza dell'andarsi a vaccinare piuttosto che rimanere scoperti contro SARS-CoV. Chiariamo che Vibo è prima per la vaccinazione e questo lo dico con molto piacere, veramente ringraziando la popolazione che ci ha dato fiducia e che è venuta a vaccinarsi. L'83,4% è un dato statisticamente molto rilevante. Ho chiesto ai ragazzi di farmi aumentare questa percentuale e dimostrare che Vibo dice un sì definitivo al vaccino contro SARS-CoV-2.